Questa è la data conclusiva del 2019, abbiamo fatto Pavullo, Fanano, Gorizia, Modena e oggi siamo a Formigine per concludere il tour del 2019. Anche oggi ci sono stati quasi un centinaio di cani e l'intero incasso andrà devoluto a punte virgola ai volontari del canile di Magreta. La Doc City Run serve per sensibilizzare tutti, partecipanti e non partecipanti, alle attività che vengono svolte in canile, quindi tutto il lavoro che viene fatto dai volontari presso i vari canili. Abbiamo collaborato con il canile di Pavullo, il canile di Modena e oggi con il canile di Magreta. L'attività può partecipare chiunque, dagli 0 ai 110 anni, con qualsiasi tipo di cane, non si vince nulla se non fare una buona azione e divertirsi. Il prossimo anno non sappiamo ancora di preciso le date, però la gente si è divertita tanto quest'anno e hanno chiesto di ripeterla e certamente la ripeteremo. Aspetteremo.